Cultura e musica come messaggio di speranza e ottimismo per chi oggi forse speranza e ottimismo non riesce a inquadrarli nella propria vita. Sì, devo dire che questa è un'iniziativa che ha il patrocino della provincia di Barletta Andrea Trani ed è stata fortemente voluta dalla procura della Repubblica di Trani che ovviamente ha visto anche il comune al suo fianco. E' un'onda lunga di una manifestazione che c'è stata il 13 dicembre, una manifestazione che solo formalmente ha portato a intitolare la palazzina della Polizia Giudiziaria confiscata alla mafia, un'organizzazione mafiosa tranese e a destinarla alla Polizia Giudiziaria, solo formalmente ha previsto la intitolazione a Paolo Borsellino ma di fatto è stata una manifestazione per la legalità la cui onda lunga prosegue con questo appuntamento, un appuntamento di grande rilievo, un appuntamento che si svolgerà in due tempi, un primo momento in carcere e un secondo momento a beneficio della collettività presso il Museo Diocesano. La giornata è quella di sabato 22 marzo, siamo tutti molto emozionati e contenti. E' un momento di crescita per tutti voglio dire, non soltanto per i detenuti. Per i detenuti ha maggior ragione dal momento che vivono in un ambiente ovviamente chiuso. Noi organizziamo, come tutti gli istituti d'Italia, corsi scolastici, corsi di alfabetizzazione soprattutto per detenuti stranieri. Sapete che il numero di detenuti stranieri è particolarmente in aumento e diventa anche un fattore aggregante. Cioè il fatto che gli stranieri imparino di più l'uso della lingua italiana serve poi a favorire una maggiore integrazione fra di loro. Ma non è soltanto questo ovviamente. Io sto cercando di recuperare una sala teatro che è stata abbandonata per alcuni anni per ragioni tecniche. La sto, ripeto, recuperando. L'ho riaperta. Abbiamo già avuto uno spettacolo musicale a fine dicembre dell'anno scorso. Ho colto al volo anche questa occasione che mi viene offerta nuovamente con i brani di Franco Califano. E' chiaramente un'esperienza che intendo continuare perché anche la musica è cultura. Anzi, è uno dei primi strumenti di cultura. L'uomo è nato cantando, l'uomo è nato con la musica. E quindi io penso che oltre che un momento di svago per i detenuti sia un momento di crescita. Uno spettacolo su Califano in carcere. Beh, Califano è rinato tante volte. Soprattutto dal carcere è rinato. Il carcere l'ha distrutto eppure lui non si è abbattuto. È rinato. Per poi uscirne sempre pulito, assolto perché il fatto non sussiste. E poi Califano è Califano. Che è legato a doppio nodo sia col carcere che con tante altre persone in carcere che ci sono state. E quindi la seconda possibilità, è da lì che vogliamo partire. La seconda possibilità, Califano la seconda possibilità se l'è presa dalla vita. Noi se riusciamo a prenderne anche uno di quelli che guardano lo spettacolo, per noi abbiamo vinto.